Fermato un 35enne di Bregnano con l'accusa di omicidio volontario, il colpo di scena arriva nell'ambito delle indagini per la scomparsa di Salvatore Deiana, di cui non si hanno tracce dall'8 marzo del 2009, dopo essere uscito di casa a Villaguardia. Nella giornata di ieri, la squadra mobile della Polizia di Stato, su mandato della Procura di Como, ha eseguito un fermo di Polizia Giudiziaria a carico appunto di un 35enne di Bregnano, Giuseppe Monti, indagato con l'accusa di omicidio volontario. Non sarebbe il solo coinvolto nel delitto, ma le indagini sono ancora in corso, come pure l'attribuzione reale dei ruoli riguardo a quanto avvenne quella notte di sei anni fa. Una svolta clamorosa, in quanto l'uomo, finito in cella nelle ultime ore, si trova già al bassone, in questi anni si era ricostruito una vita, allontanandosi dalla criminalità, sembra proprio dopo l'omicidio di Deiana. Quella notte del marzo 2009 però gli si è ripresentata l'altra mattina quando, leggendo i giornali locali, ha saputo che il fascicolo era stato riaperto e che gli inquirenti avevano gli elementi per arrivare a lui. Secondo il PM Massimo Astori e la squadra mobile, sul capo di Monti peserebbero gravi indizi di colpevolezza. Gli inquirenti hanno anche sequestrato l'auto dove sarebbe stato caricato il corpo di Deiana prima di essere sepolto in un bosco dell'Olgiatese. Le ricerche sono ancora in corso. La speranza della polizia è ovviamente quella di poter rilevare tracce ematiche riponducibili alla vittima, anche se a danni di distanza dai fatti. Da quanto è stato possibile appurare, Monti nemmeno conosceva Deiana ma avrebbe aiutato un delinquente con cui in quegli anni si accompagnava a vendicarsi di un torto subito. Un delitto maturato nella zona dell'Olgiatese della bassa Comasca. Non è un caso infatti che molti elementi, utili per riaprire il caso, sarebbero emersi proprio nell'ambito dell'inchiesta in seguito al ritrovamento del cadavere di Ernesto Albanese, seppellito nel retro di una villetta di guanzate. Se per Albanese il luogo dell'esecuzione fu un bosco, per Deiana sarebbe stato un locale pubblico di Vertemate con Minoprio che in questi anni ha chiuso l'attività per poi cambiare gestione.